La città, capitolo 2. Dio mio, 100 monete. Ok, tante piattaforme da sputare, da saltare. Ci siamo, ultimo livello, o meglio, ultima parte di livelli dove non so nulla, dove non conosco niente. Per qua è tutta blind run. Madonna mia. Quante cose da evitare per prendere gli oggetti? Scusatemi. Quante zone? Quanta gente? Quanta izma? Ancora? Quanto? Quanto sta andando avanti sta presentazione? Eh, la madonna, quanto è lungo! Allora, queste sono le guardie che non bisogna farsi vedere. Un demone! Quanto è lungo sto livello! Dio mio, ma basta! Oh, e siamo arrivati. Andiamo. Siamo arrivati a palazzo. Yeah! Sì, anche se non capisco come tu abbia fatto da arrivare fino a qui. Questo è vero. Io mi sono dovuto sforzare. Ho solo preso una scorciatoia. Certo. La prossima volta che trovi una delle tue scorciatoie, gradirei che me lo dicessi. Eh, esatto. Certo, nessun problema. Sì, come no? L'entrata alla stanza del trono è sorvegliata. Sgaiottoleremo nei giardini reali. Sgaiottoleremo. Sgattaioleremo. Sgagliottoleremo. Mi piacciono i giardini. Con quella faccia me lo dici? Soprattutto perché sono pieni di cose da mangiare, vero? Ha abbassato lo sguardo perché sa che è così. Allora, a destra troviamo l'idolo rosso. Destra, a sinistra troviamo quello sinistro. Ok, iniziamo dalla destra. Ok. Fammi indovinare. Tutto un percorso saliscendi. Però un vaso ce lo dobbiamo portare, di sicuro. Allora, vediamo se è come penso. Sì, è un vaso che dobbiamo portare avanti. Ecco, fatto. Allora, fammi indovinare. Ecco, fatto. Vieni qui. Due e tre. Ok. L'acqua. Ok. Calmi. Calmo. No, più di qua. Ecco, fatto. Grazie della moneta. Allora, prendiamo il nostro vaso. Anche se... Non c'è... Fammi controllare. Giusto per scrupolo. Non c'era nulla da quella parte, vero? Giusto per scrupolo, eh. Non per altro. Ok, sì. Da quel lato non c'era nulla. Giusto per scrupolo. Non si sa mai che perdi un segreto magari proprio per queste cose. Io mi porto il vaso di sopra perché magari quelli di sotto potrebbero servirci. Ecco qua. C'è nulla da questa parte. Certo che c'è qualcosa. C'è un segreto. Allora, grazie. Sana, volenta, valzugana. La smetterò prima o poi, sappiatelo. Non è oggi il giorno ma smetterò prima o poi. Allora. Uno. Non ci arrivo, calmo. Allora. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. E bambola. Scusatemi. Allora. Ci sono altre monete. Sembrerebbe di no. Ecco fatto. Per fortuna che non ci sono i danni da caduta in questo gioco. Scusatemi. Mi fa molto ridere quando cade di sotto e fa quel grido. Punto di controllo. Allora. Dobbiamo evitare le ghigliottine che volano. Passiamo. Cinque monete. Aspetta. Oh, non ho carica. Pensavo di avere la carica. Infatti volevo correre. Scusate il singhio. Punto di controllo. Allora. Ah, l'ho mancato. Aspetta. Preso. Vediamo l'altro. Allora. Ma pensavo che era sull'altro lato io. Non credo siano a tempo. Però. Giusto per sicurezza. Meglio sbrigarsi. Allora. Calmo. Ecco fatto. Allora. Per queste qui invece. Ah. Devo andare dall'altra parte. Ok. Calmo. Salto. No. Non ho la carica. Che scemo. Ho fatto il salto. Dando per scontato che ce l'avevo. Ecco fatto. Sto saltando. Saltando. Guarda che salto. Uno. Due. Ecco fatto. Oh yeah. Ho saltato dando totalmente per scontato che avevo la carica in mano. Preso. Dall'altro lato. Presa. Dove è andata? Eccola lì. Madonna. Che schivata. Calmo. Ecco qua. Dammi la moneta. Dammi anche l'altra moneta. Dov'è il pendolo? Eccolo qui. Vediamo se qua c'è qualcosa. Allora. È probabilmente l'uscita però. Aspetta. Prima prendiamo. L'idolo. Prima che mi devo rifare tutto il percorso. Sì. Siamo sopra le scale. Ok. E l'idolo destro ce l'abbiamo. Andiamo a prendere quello sinistro. Punto di controllo. Grazie. Allora. Mi chiedo. Mi chiedo. Mi chiedo niente perché. Il gioco mi ha già risposto da solo. Stavo dicendo se avrei dovuto. Fa spostare il blocco di nuovo. Per poter passare. Ci ha pensato il gioco a rispondere alla mia domanda. Allora. Oh calmo calmo. Questo. Che si è spostato lì. Questo. Si sposta qua. Ok. Allora. Con calma. Ecco fatto. Ora spostiamo questo. Più su. Spostiamo. Questo qua. Grazie. E. Si prosegue. Probabilmente. La butto lì. In questo livello. Non hanno messo i. Come si chiama. Le cariche. I boost. Per evitare che qualcuno. Zampettasse. Per saltellare tutto il livello. Punto di controllo. Allora. Vediamo qua. Una grossa cura. Ok. Giustamente qua. Non avevo la carica. Però. Se l'avessi avuta. Probabilmente. La butto lì. Avrei potuto salire. Su quel muretto. Se non ci sono. Muri segreti. Preso. Ecco fatto. Grazie. Idolo rosso. C'è qualcosa qui? No. Quante monete ci sono? 100. E ne abbiamo solo 23? Sembra poco. Ma forse no. Forse è giusto. Madonna. Se vedo che il gioco si blocca. Mi salta il cuore. Perché ho i Vietnam Flashback. Di quando mi si è bloccata da bambino. Proseguiamo. Allora. Guardie. Punto di controllo. Cure infinite. Ok. Ehi guardia. Beccati questo. Per fortuna che non fanno attacchi verso l'alto. Allora. Qua ci sono le cure singole. Qua finalmente abbiamo. Una carica. Altra guardia. Ovviamente. Vieni qui. Preso. Questo è un coso a tempo. Vorrei avere. Ecco appunto. Più lunghezza di boost possibile. Per fare questa zona. Vediamo. Allora. Qua è anche probabile. Che uno. Si perda. Calmo. Vieni qui. Aia. Mi ha schivato. Si perda per riuscire ad arrivare. Alla porta. Quindi. Vediamo un attimo di fare tutto il giro prima. Allora. Prendi il boost. Aspettate villici per favore. Vediamo prima. Tutte le monete. 57. 58. Guardia. Madonna. Ma quanto dura. Quanto è lungo sto passaggio. Veramente. Porta con gli idoli rossi. Ok. Quindi questa. Boom baby. Non è la via giusta. O meglio. Buona. È la via finale. Ma non è. Quella giusta al momento. Dobbiamo quindi. Tornare dai villici. Che sono qui. Questo muro è così fragile che anche un lama potrebbe rompere. Davvero? È un bene che non ci siano lama intorno al caricato. Ciao. Sono un lama. Ah sì. Potrebbe valere la pena ripetere quel punto. Speriamo che nessun lama trovi la carica. È il volume e la voce. Grazie. Va bene. Anche un bimbo scemo avrebbe capito. Aspetta. Ero troppo vicino. Ecco fatto. Segreto. Segreto. Penso che servisse per forza di cose prenderlo. Eiamoci sulla ma arrivi a caricare il muro. Ma a parte questo. Dov'è il bottone per la porta? La porta è qui. Qui a destra è da dove siamo appena arrivati con i villici. Mentre di qua probabilmente è la strada giusta. Ok. Un altro muro da rompere a testate. Segreto. Mica tanto. Ok. Non c'è nulla. Volevo vedere se c'era qualche oggetto nei piani alti. Punto di controllo. Altro tizio da uccidere. Ecco fatto. Grazie. Allora. Prendiamo la carica. Ma se io cado di sotto. In teoria. Dovrei avere già un vantaggio. Perché io sono arrivato da lì. Giusto? Però se scendo di qua è anche meglio. Anzi aspetta. Ok. Prese. Vieni qui. No. Mannaggia. Fermo. Altra guardia. Intanto tutte le monete di questo livello erano tutte in mano alle guardie. Io dicevo minchia abbiamo 23 monete su 100. Idolo rosso. Perfetto. Ci serve l'altro idolo rosso. Ecco fatto. Allora. Scendiamo da qui. Da lì davanti. E giriamo subito a destra. 3, 2, 1. Vai. E anche il gioco infatti dice di passare di qua. Ce la faremo? Secondo me sì. Non voglio buttarmi gliela ma ce la dovremmo fare. Eccola là la porta. Allora vai. Ce la dovremmo fare tranquillamente. Se non sbagliamo strada. Eccomi che arrivo. Ecco fatto. Allora. Idolo rosso. Ok. Idolo rosso sul baratro della morte assoluto. Va bene. Allora di qua si torna indietro. Indietro da dove? Non lo so. Fammi vedere. Qua sotto c'è un bottone. Non vedo che bottone sia quindi. Diamo un'occhiatina. Ok. Non è quello giusto. Ecco fatto. Grazie. Beh, a sto punto guarda. Giusto per semplificarmi un attimo la vita. Mettiamoci al centro. Ecco fatto. Così dovrei riuscire a prendere tutto. Beccato. Beccato. No. Ah! Che cosa abbiamo qui? Ah, la pedana forse. Aspetta. Ok. Diamo un'occhiatina. Molto lentamente, ma sta arrivando. Ok. Lì c'è una cura. Ok. Molto lentamente. Ma ce l'abbiamo fatta. Ci mancano... 14 monete. Ok. Spero che le monete siano dietro la porta rossa. Perché se no... Non ho proprio idea di dove potrebbero essere. Ecco fatto. Eccoci qua. Dove sei? Porta degli idoli rossi. Porta? Porta, porta. Eccola qua. E la porta si aprì. Ok. Il livello non è finito. Ho un brutto presentimento. Spero di no. Ok. Vediamo. Me l'ha spostato di qua. Ok. Spero che mi sposti... Diamo un'occhiatina. ...questo qua. Perf... Ma come? Ma è dura un cazzo! Ma scusami! No. Dall'altra parte. Cioè, ho capito che sono a tempo, però. Vediamo. Ok. Credo di aver capito. Dobbiamo... Prima andare dall'altra parte. Poi attivare... Questi qua. Ecco, fatto. Uno, due, tre e quattro. Ok. Questa non era un attimo chiara, effettivamente. Non era proprio chiarissima. Allora... Qua siamo sopra la porta. Dammi il mio idolo. Buia! Buia! Ok. Forse non era da distruggere. Però pensavo che era da prendere. Allora, ci mancano... Dieci monete. Spero ci siano altre due guardie. Qua non c'è nulla. Ok. Ok. Ah, certo. Questa è la zona stelto, ora. Dobbiamo prendere la nostra figura. Come sempre, percorso a destra, percorso a sinistra per prendere i due pezzi. Allora, lì c'è la guardia. Su questo. Vieni qui. Non ci piove. Ok, calmo. Tre, due, uno. Vai. Lo sapevo. No, ho sbagliato il salto. Vai. Sto saltando. Salto. Guarda che salto. Ecco fatto. Scusate se ero un attimo in silenzio. Non volevo cadere per via del salto. Allora, cinque monete. Vediamo prima. Ok, la guardia è qua sopra. Tre, due, uno. Vai. No. Allora, tre, due, uno. Vai. No. Ho sbagliato il salto di nuovo. Allora, il tempo ce l'abbiamo. Facciamolo con calma. Ok, con calma. Ok. Eccoci arrivati. Vieni qui. Morto. Dammi la testa. Oh, oh. Calmo. Andiamo dall'altra parte. Uff. Allora, qua è stato un attimo fastidiosa per via di quei salti che continuavano a farsi in modo terribile. Però, le monete ce le abbiamo tutte. Ecco. Questa sembra molto più semplice ora. è solo una zona. E' evita la guardia che... Un demone! Ok, non dobbiamo stargli neanche accanto. Qua è stata... Effettivamente colpa mia. Allora, aspettiamo che vada dall'altra parte. Questo è molto più semplice del labirinto. Cioè, dai. Va bene tutto. Ecco fatto. Aspettiamo. Sarebbe bello se gli vai dietro e gli dai un colpo di karate qua. Però, ammetto che... Punto di controllo. Non è che puoi avere tutto. Ok, questa volta è a tempo. Allora, aspettiamo che un attimo questa vada. Ok, no, no, non me ne frega niente nel video. Dai, 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 dai. Sta arrivando un lama! Salta però! Eh, lo so. Colpa del timer, gioco. Cioè, o meglio, colpa del gioco. Allora, vai. Non me ne frega niente. Vai, 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 vai. Ecco, fatto. Sto saltando! Salto! Guarda che salto! No! Niente! Cacchio, ce l'avevo fatta. Ero riuscito a passargli di lato. Sto saltando! Salto! Guarda che salto! Dio mio! Ok, questo giro è stato a rischio. Questo giro è stato a molto rischio perché lui si è girato all'improvviso. Per fortuna non ci ha visti. Ma ce l'abbiamo fatta. Punto di controllo. Dovremmo aver finito il livello. Dovremmo esserci. Oh, andiamo Oh, è il primo dei livelli che non conoscevo Ce l'abbiamo fatta Ce ne manca forse un altro, forse altri due, non lo so Oh, andiamo